Buongiorno fanciulli, benvenuti in Onkytonk, siamo già arrivati ai Titani 14 stelle, siamo in 25 al momento, quindi reclutiamo per chi volesse venire informazioni su Telegram con Mario 69, che non è niente di un sfondo sessuale, ma bensì, lo so, non è un'ottima pubblicità, ma il punteggio più basso che io abbia mai fatto in una Superfast. Detto questo, siamo leggermente in vantaggio, però i colpi sono 74 nostri e 77 degli avversari, quindi ce la stiamo giocando, sul campo è rimasto uno solo, quindi io adesso con calma mi faccio la squadra e inizio con le mie figuracce. Allora, incrociamo le dita, mi hanno già tirato giù, devo vedere se sono riuscita a fare one shot o no. Fermi perché qui è interessante, è partita la combo, io non volevo, mi serviva il quartone, che adesso non faccio più, che adesso non faccio più. A meno che non vada a prendermi viola di là, ma non ha senso, quindi niente, facciamo così e andiamo a farci l'altro tris verde. Tanto a te ti impedisco. Io direi di andare di qua, visto che c'è un mamma, che però non tirerò mai giù con un colpo solo, suppongo. Quanto hai di vita? 1.200. Noi la proviamo. Quanto ti è rimasto? 181. Io se faccio il rosso e poi il viola potrei ammazzarti. Se non mi parte quell'altra. Vediamo. Oh, è partito subito il viola, che bello. Va, che bello. Allora adesso i verdi. Rimettiamoli insieme. Non si può. Allora, il diamante blu non ci serve. Se faccio il quartone blu mi va un viola lì che non mi serve. Avrei un tris viola così, ma... Non so dove prendere i verdi. Oh, i verdi sulla sinistra. Ma io quasi quasi, invece. Andiamo un po' a pulire. Vediamo che succede. Ah, succede che mi fanno male. Mi sembra anche giusto. Allora. Dopo partirà lui e io dovrei riuscire a curarmi. Però i verdi me li fai mettere in fila o ti fa proprio schifo? Vediamo. No, gli fa proprio schifo. Cioè, i verdi ha deciso che non... No, non ci piacciono i verdi. Continuano a non piacerci i verdi. No, a questo punto l'unica è continuare a curarsi finché non entrano dei verdi. Allora, mi acceca. Se va su Almur ha un problema. Mi ha resistito. Fermo, fermo, fermo. Non toccarmi Almur che mi incazzo, eh. Bra, 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 bra. E siamo sempre lì. E i verdi? E i verdi? Che palle. Allora. Si faccio partire il diamante. E si riesco a mettere in fila i tre centrali. Uh, guarda che bello. E va già meglio. Andiamo di qua. Uno, due. E tre. Ok. Qua ne ho due in fila. O finalmente sono arrivati. Qui. Allora. E tanto hai già l'abbassamento. Via così. Via così. E ora andiamo a giocare con Drake Fong e adesso sono arrivati i verdi ma che bello 1, 2, 3 e dovremmo averla portata a casa no perché si rianima ok, euro proviamo portarsi i Minion con Alucard non è un'idea brillante mi servono 9 blu comincia quindi abbiamo 6 viole e 6 blu e qui andiamo a prendere gli altri blu i blu sono carichi devo aspettare che lei sponi Minion quindi andiamo a rompergli le balle per fargli sponare Minion ok ok dunque poi viola di là io andrei su Alucard anche se è ancora il Minion perché adesso noi facciamo così no preferisco questa mossa ok riparte adesso iniziamo a curarci dunque guarda dove andiamo ho una super mega combo quindi rossi che fanno partire gli altri rossi però i blu se vado proviamo ad andare a centrale su Freya siamo sempre lì però dunque 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 intanto andrei su di lei e il blu non mi bastano le porca miseria oh ecco va già meglio allora intanto io andrei a colpire il nada così tanto per non saperne leggere ah no sono bloccata non posso no puido no puido allora facciamo così e Zerola è ancora viva vediamo se riusciamo a tirare giù dei blu oh bravo così mi piace mi piacerà anche ma non muore via puliamo il board e qua non se ne esce direi che va decisamente meglio così aspettiamo a usare lui ok adesso direi che possiamo andare magni e sei ancora vivo perché sei simpaticissimo intanto adesso muori eh adesso non è che possiamo stare qui a girarci tanto intorno via e due come la vedo male allora posso fare un tris rosso che mi dà un tris blu ok e poi siamo fermi l'alternativa faccio il verde là davanti scende tutto di uno non mi cambia niente anzi perdo anche qui due tris potrei provare a fare i gialli su guter pipe che è quello che non vorrei far attivare mi scenderebbe giù un giallo un viola e bisogna vedere cosa avviene dopo l'atterrei come seconda mossa io a questo punto allora si facciamo così perché l'altro lo faccio scendere con i viola ok dunque lo facciamo in orizzontale o in verticale io lo farei in orizzontale sulla sinistra ok perfetto adesso sono bloccata ah 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 non ci possiamo fare più niente posso rompere le scatole a zagrog altrimenti altrimenti un corno lo faccio i gialli su guter pipe o faccio i gialli su vischero ecco qua mi serve un tris blu se entrasse un blu qui nell'angolino starebbe da dio ecco entrato fermi abbiamo la possibilità di cavarcela eh una piccola però c'è allora puoi andare al centro no vengo di qua perché lui non ha il minimum lui è zagro che non ha il minimum quindi potrei riuscire a fargli un pochino più male perfetto doveva una parte ma io poi la tronco con i rossi quindi va benissimo abbiamo un mamma natale lì che è un po' pericolosa eh detto fra noi tanto ci curiamo e come facciamo a far venire giù il resto con calma facciamo con calma è water pipe vediamo se mi dura ancora un turno lei perfetto è andato via e quindi e quindi è così allora mamma tanto parte adesso qui non abbiamo una sto per fare una cosa bruttissima sto per fare un doppio d'amante che in realtà io non resisto a farle queste cose qui però poi morirò perché rossi non ne ho blu non ne ho eeeh eeeh no le mie entra un rosso se faccio partire io a Londra un petto così riesco a recuperarmi un tris blu ed ecco mamma natale ecco non avevo progettato questa cosa però a tutto punto va bene allora il problema è che mamma è piena di demoni demonetti così via intanto cominciamo così su fai la brava rida grazie e water pipe se n'è andato adesso se riuscissimo a far morire anche mamma saremo a posto sì non avevo visto il diamante onestamente ho fatto la mossa di fretta e non ho visto noi veniamo di farle il più male possibile però blu qua come vedete non è che ci hanno proprio una gran voglia di farsi vedere è quasi morta eh non andare a romperle le palle perché è quasi morta fatti i fatti tuoi zia fatti i fatti tuoi resta sul vago sì però io che palle eh tanto riparte tutti ovviamente li fa ripartire ma va quel paese e vi scarano muore allora io direi che la partita è portata a casa eh per carità divina però via basta puliamo perché qua se no non se ne esce ok eh su e adesso parliamone mamma natale è andata oh ma tutto è al limite le truppe sono giuste e poi finisco le squadre anche da usare certo ma porca miseria allora ho tre gialli i rossi neanche morire faccio blu e se faccio tre gialli poi sono ferma io sarei tentata di fare tre blu e vedere cosa succede allora se faccio così non va bene io a questo punto faccio così perché vanno giù i verdi e mi entrano i rossi che però non sono sufficienti a meno che io non faccia così eh lo so che mi colpisci sei un po' antipatica ok io andrei dove c'è alucarda e uno e due e tre e quindi almeno alucarda se ne è andato ottimo direi a questo punto allora mi basta il dragone domanda sì mi basta poi carico tutti però mi basta allora ci aumentiamo l'attacco una toniera io direi di andare su di lei e dargli un altro colpetto e via è ancora viva sì ho pennello i rossi dove sono allora lui è ancora a carico siamo a posto perfetto perfetto adesso giochiamo a fare i diamanti eh su intanto ora se ne va perfetto ah le squadre fantasiose porca miseria ho gli ultimi due colpi per cui conoscendomi questo lo sbaglio però di sicuro allora giallo e verde ma porca miseria ma porca miseria devo trovare i gialli o lo faccio in verticale di qua io aspetterei a toccarli più curiosi di vedere cosa viene giù o i boh ho voluto giù un monte di roba allora tu sei carica ti vedo che sei carica ipotesi facciamo partire i rossi se ne vanno giù due quindi uno due e mi parte un tris giallo se faccio il diamante rosso però carico tutti e muoio però pazienza ma guardalo che bello ma guardalo che bello allora topazio cadilen ci dà fastidio servitori non ne ho andiamo su cadilen anche perché poi ho i tre gialli lì sotto e quindi dovremo togliercela perfetto i tre verdi di qua così facciamo fuori anche zagrog e ci liberiamo tutto il campo facciamo fuori col cavolo perché c'è il minion però intanto iniziamo a spiegargli due cose senti il dolore vediamo se zagrog muore con giù ah schivato ma facciamo così facciamo sotto i verdi vediamo se riusciamo a sopravvivere a lei senti non male quasi mi spiace devo fartelo il diamante in faccia ok quanto hai? fammi vedere quanto hai perché non mi fai vedere quanto hai? e ho ancora un turno ho ancora un turno io ho i verdi di là che mi esplodono ovunque ancora più bello potrei fare il diamante facciamo così così e vediamo cosa viene giù perché allora tu potresti morire e però hai rotto le palle allora uno ricarichiamoci dovrebbe morire no non muori io ho deciso che zagrog doveva morire sette turni fa ok grazie e prepariamoci allo schianto attenzione rossi ci sono allora facciamo così che intanto mi prendo il tressino viola non si ne aveva tre rossi potrei andare giù in verticale e vedere cosa fa oppure ah ah non ho preso il dispeller sono un genio del male mi sta bene mi sta bene mi sta bene mamma mia quanto mi sta bene non ho preso il dispeller perché sono stupida come le capre via di qua che magari magari un corno allora così perché tu non ci sei quindi forse riesco a caricarmi almeno un'ora mi sembra un'ottima cosa fermo non me lo uccidesti non me lo uccidi parca miseria mi lo uccidi è un po' mi piace non ho preso un dispeller dovevo andare in 3-1-1 quando uno è stupido proprio stavo facendo una guerra divina e adesso muoio come una cretina cioè fa anche lì ma guarda un po' e vediamo se riesco a farti fuori che già sarebbe ovviamente no ovviamente no se vado con i viola senza curarmi un po' con i rossi è finita ok vabbè ok i miei viola sono morti tutti quindi adesso si però c'è Obakan quante volte ti sei rianimato adesso a parte gli scherzi avresti anche un po' frantumato tre quarti di non posso dire cosa morta e tutto perché ho dimenticato il dispeller per Obakan sono una fava assolutamente una fava e mi sta bene poteva essere un 6 su 6 noi abbiamo ancora 62 colpi gli avversari ne hanno 70 siamo relativamente in vantaggio la mia difesa vediamo se è retto no beh si dai 10 in 50 26 34 non mi hanno mai sciottato direi che va bene però ho fatto 336 schifo non mi fa la mia difesa è questa e beh ce la possiamo giocare niente buona domenica fanciulli ciao 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 Grazie.